Ciao a tutti, oggi parliamo della miasi. Che cos'è la miasi? È un'infestazione di larve, di mosche, ditteri, in animali viventi. È un argomento di cui si parla poco e in questo video in realtà voglio darvi dei consigli su come evitare che questo problema avvenga i vostri animali, perché troppo spesso abbiamo questi animali che magari presentano queste infestazioni di queste larve perché magari il proprietario non è a conoscenza di questa problematica e quindi cerco di spiegarvi perché è molto importante che con i vostri animali, soprattutto se sono anziani debilitati, non rischiate di trovarvi una sorpresa sotto il pelo. Fondamentalmente cosa avviene? Di solito avviene la deposizione di uova da parte di mosche di ditteri in lesioni presenti sulla cute del vostro animale. A volte sono lesioni per esempio, faccio un esempio, delle neoplasie ulcerate e quindi le larve depongono le uova all'interno della neoplasia, le uova poi si schiudono, si liberano le larve e le larve attraverso l'azione proteolitica distruggono il tessuto e si mangiano l'animale. A volte ci arrivano delle situazioni molto molto gravi, molto allucinanti che andrebbero chiaramente gestite prima, però faccio questo video proprio per evitare che ci ritroviamo in situazioni veramente agghiaccianti. A volte però non sono animali debilitati o animali in fin di vita, a volte sono animali che hanno problemi neurologici, quindi non si alzano troppo, quindi tendono magari a perdere urina e l'urina sotto il pelo crea quelle condizioni poi le mosche si appoggiano e depongono le uova. A volte sono animali che magari hanno delle piodermiti piotraumatiche, ho fatto un video sulla dermadite piotraumatica, quindi andate nel mio canale a cercarla, che sono fondamentalmente delle lesioni che si formano perché magari, soprattutto d'estate, c'è magari una, c'è la presenza di pulci che quindi si gratta e quindi si formano poi queste hotspot, oppure di solito ho visto frequentemente che magari il cane fa un bagno, non si asciuga bene, quel filo di umidità che resta sulla cute crea le condizioni, soprattutto col caldo, di far sovracrescere i batteri e quindi si creano queste hotspot, che sono proprio delle lesioni eritematose, molto sanguinolente, molto umide e molto spesso su queste lesioni, soprattutto se il cane ha il pelo lungo e quindi voi non vi accorgete subito, le mosche depongono le uova e poi da lì creano proprio dei crateri pieni di larve. Negli animali molto debilitati addirittura le mosche depongono le uova intorno all'ano o intorno alla vulva, nelle femmine e le larve entrano proprio nell'intestino, nel retto dell'animale, creando ovviamente gravi problemi. Quindi questo video, oltre chiaramente a scioccarvi un po' e mi spiace, però è una tematica molto importante, serve soprattutto per dirvi due cose. La prima è che d'estate, soprattutto d'estate, bisogna cercare di tenere dentro il più possibile gli animali anziani, cioè lasciare fuori gli animali anziani che fanno fatica ad alzarsi, che magari hanno delle ferite, che magari perdono l'urina, quindi si alzano poco, che hanno il pelo sporco, significa metterli in balia delle mosche e quindi molto probabilmente questi animali avranno la miasi, quindi avranno questa infestazione di ditteri. Secondariamente, se il vostro animale ha una ferita, una lesione, è meglio gestirla prima e non lasciarla progredire in modo che prima di tutto magari riusciamo ad aiutare questi animali e secondariamente non creiamo le condizioni top per l'infestazione da ditteri. Quindi il terzo consiglio che voglio darvi è quello legato proprio alla dermatite più traumatica hotspot, cioè controllate il vostro cane soprattutto d'estate perché se ha queste hotspot va ovviamente rasato bene il pelo per far respirare, curata la lesione per evitare che le mosche poi depongano le uova e quindi si formino queste larve che poi si mangiano parte del vostro animale. Esistono dei farmaci attualmente in commercio che aiutano, di solito i farmaci che adesso abbiamo in commercio che per via orale che uccidono, cioè che gestiscono la filaria, pulci e zecche, hanno un'azione anche sulla miasi, quindi se voi date questi farmaci chiaramente uccidete anche queste larve, però chiaramente si bisognerebbe lavorare di prevenzione, cioè evitare che le mosche depongano le uova. Le mosche non depongono le uova a caso ma le depongono su materiale organico, quindi lesioni, quindi ferite, quindi problemi cronici che ulcerano, ulcere, tumori ulcerati e poi tendono a deporre su animali non puliti, quindi se il pelo è intrinseco di urina, di feci tendono a deporre in quelle zone, quindi anche lì pulite gli animali anche se sono anziani, anche se vi costa fatica, però ricordatevi che nessuno vi ordina di tenere un animale, se lo dovete tenere lo tenete bene anche quando sono anziani, anche quando hanno bisogno chiaramente di assistenza. Spero che questo video vi sia piaciuto e questa è una tematica importante perché la miasi è una di quelle patologie che basterebbe tenere gli animali in casa, uccidere le mosche che entrano, soprattutto nel periodo estivo, perché ovviamente la miasi non la vediamo d'inverno, rarissimamente, proprio perché le mosche sono più frequenti nel periodo estivo, primaverile, che si potrebbe veramente diminuire il numero di casi con le miasi. Quando mi arrivano questi animali che sono divorati dalle larve di mosche, mi piange un po' il cuore, proprio perché si potrebbe fare tanto, ma tanto, quindi mi raccomando controllate sempre i vostri animali, soprattutto se sono anziani, soprattutto se hanno una piccola ferita, non trascurateli, non lasciateli, a volte veramente arrivano degli animali, non posso mostrare ovviamente le immagini perché chiaramente non va bene, però fondamentalmente noi vediamo a volte le situazioni che si chiede, ma scusa, ma quanto tempo si può tenere un animale in queste condizioni prima di portare al veterinario. Un saluto a tutti e alla prossima!